Dimenticata Emilia Macatania, Luca Argentero ha già una nuova compagna. Si tratta della modella e attrice Cristina Marino, conosciuta sul set del suo nuovo ultimo film. Per i due attori è stato amore a prima vista, durante le riprese di Vacanze ai Caraibi con Christian De Siga. E ora anche i fan italiani stanno imparando a conoscere la nuova fiamma dell'attore, grazie ai suoi scatti sexy. Su Instagram Cristina Marino non manca di postare immagini provocanti e posti sexy, che le hanno già fatto guadagnare molti ammiratori. Dal canto suo, Luca Argentero sembra felice della sua nuova compagna e l'ex moglie pare già dimenticata. Sul canale Instagram di Cristina Marino, i fan italiani possono capire come l'attore è stato fortunato a trovare una bellezza come la giovane collega. Non trovate anche voi?